Ragazzi prima di cominciare con il video voglio ricordarvi che abbiamo ripreso le giveaway dove regaliamo criptovalute gratis e quindi ogni lunedì annunceremo un nuovo vincitore della giveaway e spiegherò in qualsiasi momento durante il video come partecipare, quindi seguite il video fino in fondo e buona fortuna a tutti. E voglio anche ringraziare tutte quante le persone che si sono iscritte al canale e se siete nuovi e potreste considerare l'iscrizione se non l'avete già fatto sarebbe assolutamente fantastico e quindi grazie mille e buona fortuna a tutti per la giveaway e adesso cominciamo con il video. Ragazzi oggi parlerò di ciò a cui dovete prestare attenzione proprio adesso quando si tratta di Bitcoin nei tempi più brevi, inoltre abbiamo anche alcuni aggiornamenti sulla riunione del consiglio che ha avuto luogo ieri con la Federal Reserve e quindi parleremo ovviamente anche di questo. Abbiamo anche un indicatore storico molto interessante che ci mostra qualcosa di importante per Bitcoin che è questo grafico qui e parleremo dei mercati tradizionali e di molto molto altro ancora. E quindi come sempre ragazzi bentornati a tutti, mi chiamo Marco, portano video riguardo le crypto ogni giorno, mostrano come fare i soldi in questo tipo di mercato e se siete nuovi potreste considerare l'iscrizione, ditevano anche alla campanella, sarebbe assolutamente fantastico. Ragazzi cominciamo con i nostri livelli di supporto e di resistenza perché quello che potete vedere è che ieri abbiamo avuto una spinta verso l'alto, abbiamo avuto una spinta verso l'alto dalla fascia lancione e fino ad arrivare alla prossima resistenza e quindi ancora una volta questa fascia arancione ha sostenuto il prezzo anche dopo aver avuto tutte quante queste notizie negative nel mercato e sappiamo che questo qua è un grande livello di supporto, abbiamo visto una bella spinta fino al livello di resistenza successivo che è questa linea arancione a 43.800$ e quindi stiamo continuando a rispettare questi livelli e continueranno ad essere estremamente importanti mentre continueremo a salire verso l'alto poiché possiamo vedere che il prezzo di Bitcoin sta sicuramente rispettando molti di questi livelli mentre scendiamo o mentre saliamo appunto nel prezzo e ora il livello più importante è a 45.000$ e vi mostrerò anche il perché, quindi voglio mostrarvi il grafico settimanale di Bitcoin per adesso perché quello che possiamo vedere invece nel grafico settimanale sono un paio di cose importanti la prima è che siamo al di sopra di questa linea di resistenza precedente inclinata verso il basso e stiamo trovando supporto su questo livello il che è estremamente importante perché guardate cosa è successo una volta che abbiamo iniziato a scendere qui abbiamo trovato un enorme supporto una volta che abbiamo iniziato a scendere dopodiché invece siamo scesi verso il basso da questo livello abbiamo attestato nuovamente questo livello che si era trasformato in resistenza durante la salita e quindi abbiamo confermato la discesa da questo livello il che va bene quindi dopo aver avuto questa discesa ora abbiamo avuto una specie di cosa simile abbiamo avuto questa resistenza finalmente l'abbiamo superata stiamo trovando quel supporto su questo livello appunto adesso verso l'alto e ora se siamo in grado di confermare questo supporto proprio come abbiamo confermato appunto la resistenza in passato le cose sembrano potenzialmente rialziste per Bitcoin nel grafico settimanale il fatto più importante però ovviamente ragazzi sono i 45.000 dollari perché se vado anche a mostrarvi il 20 EMA possiamo anche vedere che questo ha spinto verso il basso il prezzo non siamo stati in grado di superarlo per ben 4 volte totali in realtà per tutto quanto il mezzo stiamo cercando di superare questo livello importante proprio qui abbiamo provato a superarlo anche la scorsa settimana potete vedere che abbiamo avuto una candela che cerca di superarlo per esempio in questa zona ma non siamo stati in grado di farlo e quindi questo sarà un grande livello di resistenza a 45.000 dollari e 860 per essere precisi e come sapete abbiamo anche il livello dei 45.000 dollari ovviamente nelle nostre linee di resistenza nel nostro grafico da 4 ore e quindi in questa zona potete vedere che proprio qui abbiamo questo tipo di candela dove il prezzo di Bitcoin è sceso appunto e questo qua è per via appunto della resistenza e anche del 20 EMA e quindi tutto quanto ha un senso la struttura dei mercati è ancora intatta per adesso e quindi continueremo a monitorare la situazione ma le cose non stanno andando così male per Bitcoin proprio ora e tra poco vi mostro anche un grafico molto molto importante ma prima di parlare appunto di questo grafico appunto molto importante parliamo appunto velocemente anche di Ethereum e quindi Ethereum ha trascorso un paio di settimane interessanti qui perché nel grafico da 4 ore possiamo vedere che ci siamo consolidati all'interno di questo intervallo di prezzo che è compreso tra i 2850 dollari e i 3000 dollari essenzialmente e possiamo anche vedere che questo livello ha agito da supporto per diverse volte questo qua ha supportato il prezzo di Ethereum per così tante volte qui sotto adesso stiamo superando questo livello ci stiamo avvicinando alla fascia lancione e quindi ancora una volta questa qua è una grande resistenza per Ethereum ma non solo nel grafico giornaliero abbiamo anche questa linea di tendenza inclinata verso il basso e quindi siamo in grado di superare questa tendenza e questo qua è adesso seduto a 3100 dollari e quindi siamo in grado di superare questo livello allora sarà anche una buona notizia per Ethereum e ragazzi prima di continuare se volete richiedere un bonus fino a 4530 dollari e assicuratevi appunto di utilizzare il link per tradere esperti ma potete anche richiedere questo bonus e fare trading con il bonus se volete e quindi continuiamo a parlare invece velocemente dei mercati tradizionali perché l'SP500 adesso sta al di sotto della mia linea arancione a 4416 dollari e quindi dobbiamo superare questa resistenza perché possiamo vedere che abbiamo provato un paio di volte a superare questa linea arancione ci abbiamo provato in realtà per un totale di 5 volte abbiamo fatto diversi tentativi ma siamo sempre stati al di sotto di questo livello e quindi dobbiamo superare questo livello se vogliamo rimanere bullish per quanto riguarda i mercati tradizionali e le prossime resistenze saranno a 4420 dollari dove abbiamo la prossima linea arancione e poi a 4475 infine avremo la fascia arancione a 4500 e ora voglio mostrarvi appunto questo grafico e questo qua è stato pubblicato da Caleb Franzen originariamente e quindi cos'è questo indicatore? bene abbiamo in realtà la definizione descritta appunto nel post pubblicato quindi voglio mostrarvi direttamente la definizione che penso sia molto più importante quindi gli indicatori rosso e bianco utilizzano l'analisi di regressione lineare per misurare la pendenza della regressione su diversi intervalli di tempo e quindi questa è quella spiegazione tecnica di quello che stiamo vedendo nel grafico ma la spiegazione diciamo pratica è che ogni volta che abbiamo un incrocio tra queste linee di solito è un'indicazione di un massimo o di un minimo e quindi un massimo a breve termine o di un minimo a breve termine e possiamo vedere che abbiamo avuto un incrocio e siamo saliti per esempio da questo punto che abbiamo avuto in basso poi abbiamo avuto un incrocio ribassista e siamo scesi abbiamo avuto un altro incrocio e siamo saliti per poi avere un altro incrocio dove siamo scesi e ora ci stiamo avvicinando a questo incrocio rialzista e quindi quanto è accurato? bene in realtà c'è stata anche una volta qui in cui abbiamo avuto un incrocio poco chiaro ovvero non so come si possa definire questo ma abbiamo anche un altro incrocio poco chiaro anche prima di questo e quindi ovviamente col seno di voi sappiamo che il prezzo di Bitcoin ha iniziato a scendere verso il basso ma comunque sia abbiamo questo incrocio poco chiaro qui e possiamo dire che questo grafico ha agito diciamo in modo corretto per un totale di facciamo contiamone sono una, due, tre, quattro, cinque volte su sei che è nella media piuttosto buona per così dire e quindi questo qua è sicuramente qualcosa di interessante tanto da continuare a guardare ma stiamo anche avendo quell'incrocio rialzista quindi vedremo se avremo lo stesso tipo di crescita e azione parabolica sui prezzi come abbiamo visto appunto nei precedenti incroci rialzisti e infine ragazzi ovviamente quello che è nella mente di tutti quanti ora è la riunione del consiglio che si è svolta ieri e quindi non sappiamo davvero cosa sia successo ieri perché c'è stata una riunione del consiglio della Federal Reserve a porte chiuse ma la maggior parte delle persone si aspetta un aumento del per esempio 0,5% o del 0,2% del tasso di interesse anche se non abbiamo nulla di confermato quindi sappiamo già che aumenteranno i tassi ragazzi e penso che il mercato abbia già reagito abbastanza a questa notizia ma proprio come ho anche mostrato nei precedenti video per esempio vi ho mostrato anche un video in realtà precedente quindi questo video qui se non l'avete visto assicuratevi di guardarlo ma ogni volta che i Fed hanno alzato i tassi nella storia nel corso della storia se guardiamo l'arco di tempo appunto più lungo porta sempre ad un aumento dei prezzi, dell'attività, delle azioni e così via e a parte questa volta appunto che era nel 1972 al 1974 ora una cosa però è che questo è il tightening without turmoil e quindi gli aumenti dei tassi senza turmoil e ora abbiamo anche il fatto comunque sia tra Ucraina e Russia e quindi vedremo se questo fatto farà scendere il prezzo nei mercati ma voglio dire in generale il mercato azionario continua sempre a salire e in effetti vi avevo anche mostrato un altro grafico che ci mostra che in guerra in generale i mercati tendono ad andare abbastanza bene e ve ne avevamo anche parlato in un altro video quindi voglio dire non penso che dovreste preoccuparvi di tutta questa paura nel mercato adesso per via di quello che dicono appunto i media in questi giorni o in questo periodo e come sempre usate una buona gestione del rischio se avete una buona opportunità di acquisto se per esempio i prezzi scendono di moto nel mercato allora saprete già come agire però come sempre ragazzi mi raccomando dovete avere una buona buona gestione del rischio adesso stop un attimo il video e vi spiego come partecipare alla giveaway per partecipare alla giveaway dovete semplicemente essere iscritti al canale e rispondere a questa domanda dalla sezione dei commenti quale pensate che sarà l'alcoin che performerà meglio degli altri quest'anno fatemi sapere nei commenti e inviate anche il vostro portafoglio di Binance Smart Chain altrimenti non possiamo selezionarvi come vincitori è giusto per chiarire basta soltanto inviare il portafoglio una volta soltanto anche se risponete a più video o a più domande e noi controlleremo l'indirizzo tramite lo storico dei commenti e quindi buona fortuna a tutti e adesso continuiamo con il video altrimenti potreste perdere semplicemente i vostri soldi e allora perché è lì che comunque potete andare a guadagnare molto e la maggior parte è molto dei vostri soldi se vediamo dei grandi tip e quindi ragazzi insomma questo qua è quello che ho per voi per quanto riguarda questo video grazie mille come sempre per la visione ci vediamo nel prossimo